Allora, Recovery Fund. C'è stato un accordo tra Germania e Francia. Alcuni si stupiscono sul fatto che l'Italia non interviene mai in queste cose. In realtà, se andiamo a vedere un po' di storia europea, Germania e Francia sono sempre state quelle in prima linea riguardo le situazioni europee, anche se i fondatori dell'Unione Europea sono sei, tra cui anche l'Italia, in realtà l'egemonia a livello europeo l'hanno sempre fatta la Germania e la Francia. Quindi neanche in questo caso mi stupirei più di tanto se nell'accordo ci sono queste due nazioni, è storicamente conosciuta in questo modo la composizione a livello europeo, le forze in campo a livello europeo che sono principalmente tra Germania e Francia. Anche per una questione storica di Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. Comunque noi abbiamo delle colpe perché comunque in Europa ci mandiamo le persone che bollano i documenti con le scarpe e quindi anche noi abbiamo una certa colpa nel mandare gente a livello europeo non troppo affidabile e comunque anche nelle trattative europee siamo sempre defilati o cerchiamo sempre di combinare casino e quindi diciamo che secondo me è spiegabile in questo modo. In più comunque la Francia stava portando con sé un'istanza condivisa anche dagli Stati Mediterranei, quindi diciamo che l'Italia c'era in quell'accordo attraverso appunto la Francia perché era una proposta condivisa da tutti gli Stati Mediterranei. Beh, arriviamo comunque, quindi questo è un po' di contesto, un po' storico e un po' di altro. Arriviamo alla proposta franco-tedesca che in realtà la proposta franco-tedesca non deriva semplicemente dal recovery fund e qui abbiamo il documento originale datato proprio 18 maggio 2020 dove in realtà in questo documento non ci si sofferma unicamente sul recovery fund ma Francia e Germania, che ripeto sono le promotrici di due opposizioni diverse, cioè quelle dei paesi del nord e quelli dei paesi del sud, propongono tre diverse politiche da proporre alla Commissione europea e da proporre alla Commissione europea. In particolar modo sviluppare un sistema sanitario a livello europeo, è la prima proposta, quindi collaborare ancora di più nel cercare di scoprire questo no, quindi collaborare tra le nazioni europee in maniera superiore per cercare di scoprire questo vaccino il più velocemente possibile, in più creare un mercato dei medicinali il più aperto possibile e appunto portare a livello europeo alcune tematiche che prima non c'erano nel campo sanitario. Quindi questa è una prima proposta che molti non hanno discusso. Poi c'è quella sul recovery fund che ci arriviamo e la terza proposta all'interno di questo accordo, o la quarta se vogliamo seguire il coso, aumentare gli investimenti nella trasformazione digitale e nel campo dell'economia verde e poi qui dare nuovi impulsi alla costruzione di un singolo, di un mercato unico europeo tramite tutta una serie di strategie che qui vengono spiegate. Vi lascio sempre la fonte in descrizione se volete approfondire. Qui tra l'altro c'è anche, non so se siete d'accordo, ma Francia e Germania propongono un'accelerazione nella digitalizzazione e nell'utilizzo del 5G. Sì, io l'ho detto, poi fate voi. Ma tornando seri, recovery fund. Quindi tra tutte queste proposte c'è anche questa del recovery fund che ovviamente ha preso il sopravvento tra le altre, perché giustamente è anche di una certa rilevanza. Recovery fund che è comunque una proposta da parte di Germania e Francia, perché adesso ci avviamo comunque questo documento, la Commissione europea ha risposto a questa proposta affermando che è contenta di questa proposta e che darà la sua proposta sul recovery fund entro settimana prossima. Eccolo qui. We'll adopt next week tutte le situazioni, le proposte da parte della Commissione europea e che quelle sono in realtà quelle ufficiali, settimana prossima sapremo di più le proposte della Commissione europea. Però se la Commissione europea si è definita contenta di questa proposta è comunque legittimo pensare che in qualche modo la Commissione europea prenderà i passi di questa proposta. Perché ovviamente è una proposta politica e quindi la Commissione europea sarebbe folle se non seguisse questa proposta. Però non è detto che possa aggiungere qualcosa in più. Infatti all'inizio si pensava un recovery fund di mille miliardi, questa proposta è di 500 miliardi costruita in un determinato modo, ma la Commissione europea potrà benissimo dire settimana prossima facciamolo di mille miliardi includendo anche la proposta della Germania e della Francia, ma aggiungendo anche altre cose. Ora, entrando nel merito della proposta, recovery fund è di 500 miliardi e come ho detto anche prima, questo è un video registrato, estrapolato da una live, il meccanismo di finanziamento è sostanzialmente simile a quello dello Shure. E cioè la Commissione europea prenderà dei... andrà sui mercati finanziari a emettere titoli di debito e a recuperare questi 500 miliardi che poi verranno redistribuiti all'interno dei paesi europei più in difficoltà per supportare questa decrescita economica. Quindi è un passo importante, soprattutto a livello politico, il fatto che una istituzione europea possa finanziarsi e dare questi soldi e distribuire questi soldi all'interno delle nazioni, cosa che in realtà accade già in qualche modo all'interno del MES, ma sappiamo che il MES è un'istituzione non europea, mentre in questo caso la Commissione europea è un'istituzione europea e potrà appunto finanziarsi nei mercati per poter recuperare soldi da poi redistribuire all'interno del mercato. Cosa è all'interno delle economie? Soldi che prima la Commissione europea ridistribuiva all'interno delle economie tramite il budget europeo, budget europeo che era composto da più dinamiche, tra cui i finanziamenti diretti dagli stati, in base al loro RNL si definisce, c'è una percentuale di contribuzione dello Stato all'interno del budget europeo, ma anche attraverso altre fonti di finanziamento si costituiva questo budget europeo, tra le quali la riscossione di tariffe doganali di prodotti che entrano all'interno dell'Unione europea, e in più, non so se lo sapete, ma una certa quota dell'IVA che paghiamo tutti i giorni va nelle casse europee. Adesso non ricordo quale percentuale, ma molto bassa, ma una certa percentuale della tassa sul consumo di tutte le nazioni europee vanno a costituire il budget europeo. Quindi c'è questo elemento politico molto importante, in più c'è la possibilità che alcuni paesi possano finanziare il budget europeo del 10%, ma poi ricevere dalla Commissione europea e dal budget europeo ad esempio il 20%, perché ci saranno dei trasferimenti di soldi anche grazie a questo recovery fund e quindi ci saranno comunque dei vantaggi. Comunque, nonostante tutto, anche nel documento lo possiamo leggere, in questo paragrafo qui, quindi il fatto di, comunque, gli Stati membri sono comunque impegnati nel seguire le riforme economiche derivanti dall'agenda politica del budget europeo, che si definisce ogni sette anni. E in più un altro elemento importante, anche qui molto politico, ma anche molto favorevole a livello economico, e la volontà da parte degli Stati di creare un framework di tassazione unico a livello europeo e soprattutto, per quanto riguarda, lo definisce qui, una tassazione minima sulle digital economy all'interno dell'Unione Europea, basandosi anche sugli studi dell'OX, dell'OECD, o i CD, che stanno studiando, appunto, questa cosa qui riguardo l'illusione fiscale e anche delle big tech mondiali. Quindi, diciamo che ci sono dei miglioramenti riguardo questi strumenti, come anche successo dopo la crisi del 2008-2012, passi in avanti da parte dell'Unione Europea si stanno facendo, come sono stati fatti anche nella crisi passata, questo è in dubbio ed è, secondo me, stupido non negarlo. Ci sono i fatti a dimostrarlo. In qualche modo l'Europa nel 2008 si è trovata, in un certo senso, impreparata, ma poi, diciamo che, ha saputo implementare nuovi strumenti, basta citare, ad esempio, il quantity divising che prima la Banca Centrale Europea non aveva come strumento finanziario o anche tante altre risorse. Anche qui l'Europa sta cercando di migliorarsi all'interno di una crisi introducendo, appunto, il Shure, ampliando le funzioni della Banca Europea degli investimenti, introducendo nuovi meccanismi europei, come ad esempio la possibilità della Commissione Europea di finanziarsi all'interno dei mercati e ridistribuire questi fondi a livello europeo. E in più, appunto, ci sono dei passi avanti proprio a livello di tassazione europea in modo da rendere, sotto il campo, appunto, in particolare della Digital Economy, rendere gli stati uguali e quindi non introdurre degli effetti possibilmente distorsivi. E quindi questo è quello, secondo me, che c'è da sapere riguardo il Recovery Fund. Potrebbe essere uno strumento utile per adesso di 500 miliardi, ma è semplicemente una proposta. Probabilmente, non lo sappiamo ancora, potrebbe essere aumentato questo budget da parte della Commissione Europea tra una settimana con la sua proposta. è una risposta economica, sicuramente, ma è anche altrettanto importante a livello politico i passi avanti che sono stati fatti, soprattutto per quanto riguarda i dubbi che erano... perché sostanzialmente all'inizio in Recovery Fund c'erano molti dubbi su dare soldi a fondo perduto alle nazioni, cosa che in realtà abbiamo visto come sono stati fatti dei passi avanti in questo senso tramite questa proposta. E quindi ci sono delle buone possibilità per cui la Commissione Europea potrebbe proporre dei finanziamenti di pari importo, quindi arrivare effettivamente alla cifra di 1000 miliardi, quindi 500 miliardi a fondo perduto utilizzando il budget europeo come garanzia e gli altri 500 miliardi utilizzandoli tramite i finanziamenti diretti agli Stati, quindi prestiti sostanzialmente agli Stati. Spero di essere stato abbastanza chiaro. È un segnale, secondo me è un segnale da parte dell'Europa. Ripeto, la questione Germania e Francia è conosciuta, fin dagli anni 50 ormai c'è questo asse Francia-Germania che anche a livello storico sono più importanti effettivamente a livello politico all'interno dell'Europa, ma anche delle questioni italiane, insomma... in Europa non siamo ben presenti, non ci impegniamo molto nell'essere presenti a livello europeo. Nonostante tutto comunque la Francia stava portando avanti dei bisogni che erano condivisi anche dal governo italiano. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!